Ciao Rengor, come ti senti a gestire il training in open water e il swimming pool? No, è divertente, è davvero divertente. Ho stato in Doha un paio di settimane, è stata una buona gara. E ora ho stato bene, ho fatto una buona 800, una buona 1500, è una testa per gli europei e per gli olympici, quindi per ora è proprio bene. Qual è la gara del tuo cuore? La gara del mio cuore è la 1500, ma mi piace anche la 800 e mi piace l'open water, quindi mi concentro su ogni evento al stesso tempo. Ci sono divertente in questo olympico, questo è davvero un olympico. Sì, spero, sì, ma è divertente. Credo che l'italiano team è davvero buona. Mi sento che sei diverso. Sì? 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 Sì. 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 Sì.